La Fondazione Teatro delle Muse di Ancona e la Fondazione Pergolesi Spontini di Iesi si rafforzano, definiscono e rilanciano il percorso iniziato lo scorso anno rispetto alla lirica. Nel 2016 entrambe le fondazioni si sono poste come obiettivo di proporre un unico contenuto artistico presentato in una sola grande stagione d'opera nei teatri delle Muse di Ancona e Pergolesi di Iesi. Questo fatto epocale per il territorio marchigiano viene accompagnato da una nuova nomina, quella di Vincenzo De Vivo, che sarà il direttore artistico. È una bellissima avventura, un polo di produzione unico tra due città e due teatri che hanno una storia e un'identità. Quindi significa mettere insieme le energie e la storia di due grandi teatri e farne un grande luogo di produzione di teatro musicale.